Sabato 31 marzo, sabato santo, è il novantesimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 275 al termine. Il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 19.40, la luna si leva alle 19.41 e tramonta alle 7.11. Caterina, vedova di Giangaleazzo Visconti, signore di Milano, invia una lettera al Doge nella quale offre Feltre, Bassano e Cividale in cambio di aiuto e appoggio contro i Carraresi, gli Estensi e gli Scaligeri. Le previsioni per domani, in prevalenza cielo sereno e poco nuvoloso, fino all'alba sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche modesta pioggia, nel pomeriggio localmente variabilità a tratti in prossimità dei rilievi, temperature in calo di notte e in aumento di giorno.